è arrivato il momento che pure io sto aspettando di fare il video che non è assolutamente copiato da idf quel disgraziato come osa ovvero quanto guadagni su youtube infatti quanto guadagno io ed angel allora come possiamo vedere queste sono le visualizzazioni ma questa non c'entra perché io non ci guadagno niente infatti guadagna se io vado qui su guadagna bisogna almeno avere infatti se dobbiamo avere mille iscritti mille non cento mille e 4000 ore di visualizzazioni altre 160 giorni io tipo sì e short pubblicati ben 10 milioni sempre a disturba mia e non ho messo ancora questo in chiaro non dovete essere di subito questi genitori bene da questo video cinese tutto e iscrivetevi al canale lasciate like tutte quelle robe perché a a me a voi non aiuta ma mi aiuta tante questo vuol dire che che a voi non me ne frega però se mi mettete un like sono sempre soldi che non faccio però ragazzi questo è tutto e ragazzi spero che avete imparato una bella lezione non avete capito cosa intendo ci vediamo ciao ah volevate quel disgraziato come osa a Grazie a tutti